Il migliorno è finito a 2-2, un punto che all'Arezzo serve davvero a poco, ma ti chiede cosa è successo nel primo tempo? Saperlo, guarda, ci ho pensato un po' su nello spogliatore, abbiamo pure parlato, una squadra come la nostra comunque che deve vincere, credo che non può fare un primo tempo del genere, abbiamo fatto veramente male, non siamo riusciti mai a superare l'episodio negativo del gol, poi è stato comunque un susseguirsi di errori, fortuna la reazione al secondo tempo, l'unica nota positiva della giornata, ma comunque questo non basta, perché bisogna fare molto di più, ognuno di noi credo che deve fare molto di più. Emilio, con questi sono sei pareggi casalinghi, è un dato che pesa, soprattutto l'approccio alla partita spesso è stato insufficiente, come mai, anche se poi magari mezzanotte viene alla vigilia e ci parla di una squadra comunque carica che lavora bene in settimana, cosa succede poi per tradurre sul campo? Comunque non so darmi una spiegazione perché durante la settimana lavoriamo bene, invece molti primi tempi riusciamo a sbagliarli, probabilmente siamo un po' credo superficiali, penso questo perché ormai una squadra che deve vincere non può fare tutti questi pareggi, quindi penso che la strada deve essere cambiata, non è colpa del mister, è solo colpa nostra, perché comunque tra il primo e il secondo tempo la squadra non può avere due atteggiamenti e due modi di giocare così diversi, quindi la colpa è dentro di noi, ognuno deve ricercare dentro di sé qualcosa in più, fare più sacrifici e più rinunce probabilmente, quindi dobbiamo crescere. Meno 8 dalla Pistoiese si può ancora credere? 8 punti non sono pochi, non sono pochi così tantissimi, però se dentro lì non scatta qualcosa credo che non mi fanno paura gli 8 punti, fanno paura più, il primo tempo di oggi mi fa più paura, però come persona sono un positivo, e i valori del gruppo se riusciamo a migliorare e a crescere soprattutto in determinati atteggiamenti, credo che possiamo fare da qua alla fine queste 12 partite, sono per noi 12 finali, quindi possiamo crederci e lo dobbiamo fare a tutti i costi, perché comunque la società ha fatto degli investimenti importanti, quindi io credo che comunque i giocatori da Rezzo ne passano, ne passeranno tanti, però comunque questa società ha fatto delle cose molto buone, quindi dobbiamo cercare di dare il massimo fino alla fine e fare quello per cui siamo stati presi.